Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Linda e oggi in questo video parliamo di colloqui scuola-famiglia. Se state cercando un video con il consiglio per i colloqui perfetti, questo canale non fa per voi. Se invece siete disposti ad ascoltare le esperienze di una persona che da tanti anni lavora nella scuola e che decide di condividere con voi le proprie riflessioni, emozioni, sentimenti, esperienze, allora questo è il video che fa per voi. Ho preso degli appunti anche perché questo argomento mi è stato richiesto da alcune di voi, quindi si vede che è un tema abbastanza sentito. Io non ho soluzioni, non ho formule, non ho assolutamente il consiglio perfetto, però ho tanti anni di esperienza e ho pensato che analizzare, andare lì a ricordare, a sviscerare le emozioni, i sentimenti che mi legano a questo argomento poteva essere utile per cercare di confrontarci in merito a questo argomento. Vi anticipo che guarderò giù perché ho preso degli appunti, proprio perché voglio condividere con voi quelle che sono state le mie esperienze in merito ai colloqui. E comincio col dirvi che certe volte alla parola colloqui ci si sente un po' come si sentono i nostri alunni, cioè con quel filo d'ansia o con quella preoccupazione che hanno appunto i nostri alunni quando sanno che è il giorno dei colloqui. Diciamo che questo a volte è capitato anche a me e quindi in poche parole si può dire che possiamo simpatizzare o empatizzare appunto con i bambini. Non lo so se questa è una sensazione che accomuna anche altri insegnanti, però so per certo che io a volte la provo nonostante insegni nella scuola primaria dal 2004. Allora, pensando a questo tema e anche a questa sensazione che a volte mi viene su, ho cercato di fare appunto delle considerazioni e ho diviso la mia esperienza esattamente in due parti. Una parte che riguarda il periodo in cui ero precaria, quindi il periodo delle supplenze, anche se parlo di supplenze lunghe, laddove per lunghe intendo oltre cinque mesi di scuola. E un'altra parte è quello che riguarda la mia esperienza da insegnante di ruolo, quindi con una classe mia è una continuità anche sulla classe. Nel periodo del precariato, chiamiamolo così, ho fatto fondamentalmente due tipi di esperienze. Uno, le supplenze lunghe, quindi quelle che superano un certo tipo di approccio con i bambini, quelle che durano appunto oltre cinque mesi. E le supplenze brevi che in realtà mi vedevano saltellare da una classe all'altra. Nel primo caso, quindi nelle supplenze più lunghe, soprattutto se il team dei docenti era affiatato, devo dire che i colloqui erano abbastanza sereni, andavano bene, ho un bellissimo ricordo, i genitori erano desiderosi di sapere anche il punto di vista di una persona che magari si inseriva nel team da poco, o come poteva essere appunto una supplente. Quindi devo dire che su questo ho un bellissimo ricordo. Per quanto riguarda le supplenze brevi, nel secondo caso erano più i genitori a fare il colloquio, quindi erano più loro a parlare a me piuttosto che io a parlare a loro. Generalmente il discorso dei colloqui dovrebbe essere appunto una conversazione, cioè l'insegnante che parla ai genitori dell'alunno, del bambino, il genitore che parla all'insegnante da un altro punto di vista. Io l'ho sempre vissuta così, quindi una sorta di scambio, di conversazione, che poi purtroppo questo non sempre si può realizzare, perché quando andiamo a svolgere i colloqui abbiamo sempre tempi strettissimi, cioè nella migliore delle opportunità abbiamo dieci minuti per parlare con ogni famiglia, quindi si deve per forza ridurre a delle cose essenziali che vogliamo comunicare. Comunque nel secondo caso, quando vi dicevo che avevo delle supplenze brevi e quindi saltellavo da una classe all'altra, però mi capitava di presenziare i colloqui. Diciamo che io l'ho ritenuto come una questione di mancanza di conoscenza, cioè nessuno di noi aveva tempo a sufficienza per conoscersi, cioè né l'insegnante per conoscere i bambini e i genitori, né i genitori per conoscere l'insegnante. Spesse volte i colloqui erano veramente avvilenti, ve lo dico proprio con cuore in mano, perché si riducevano semplicemente a un buongiorno maestra, mio figlio mi ha raccontato che oggi non l'ha fatto sedere vicino al suo amico del cuore, mi chiedevo a lei come mai si permette di fare una cosa del genere. Tutto qua. Però mi dava tantissimo, tantissimo, non dico fastidio, però era proprio una sensazione di frustrazione, perché io, proprio perché magari avevo tante classi, giravo tante scuole, e quindi si vedevano tanti bambini, tanti volti, tante famiglie, perché spesse volte, anche proprio a livello mnemonico, si sovrapponevano facce, nomi, bambini, episodi, quindi il colloquio per me aveva una preparazione non indifferente, ti guardi bene i quaderni, ti scrivi qualcosa di ogni bambino, vai a vedere effettivamente i voti, chiacchiere un po' anche con la collega per capire se l'impressione che tu hai di quel bambino o di quella bambina sono reali, c'era proprio una preparazione, perché poi si riduceva tutto a cose banalissime, del tipo mia figlia mi ha detto che voleva andare al bagno e lei non l'ha mandata, cioè questa cosa mi faceva tornare a casa veramente avvilita, avvilita. Per non parlare poi di tutte quelle, diciamo, chiacchiere, di quelle conversazioni basate su buongiorno maestra, ma come mai non siete arrivati ancora al capitolo 5, che invece l'altra classe già l'ha studiato, oppure, che ne so, visto che sono tre giorni che c'è bel tempo, però lei non porta in giardino i bambini, cioè tutte queste cose che sinceramente stringi stringi, il tempo volava, e io mi riducevo a non poter dire niente. Tra le altre cose, essendo appunto una supplente, l'ho fatto per tanti anni, non avevo quell'autorevolezza di poter dire stop, aspetti, anch'io ho qualcosa da dire. E magari c'erano delle occasioni in cui il collega o la collega di team interveniva e delle altre occasioni in cui seraficamente non si diceva niente, quindi io non riuscivo ad avere il polso della situazione, a prendere in mano la situazione, e lasciavo che le cose andassero così. Me ne tornavo a casa sconfitta, come se in realtà fossi stata io, la nunna, e il colloquio era per me, cioè loro venivano a giudicare me. Questa era la mia sensazione. Sicuramente non era l'intento delle famiglie, dei genitori, però io tornavo a casa con questa sensazione. Tra l'altro anche molto frustrante, perché dietro c'era tutto un lavoro di preparazione per affrontare il colloquio nel migliore dei modi, e andava spesso a finire a trallucce e vino. Così cosa è successo? Che nel momento in cui sono entrata di ruolo, ho giurato a me stessa che questa cosa non doveva più accadere, ma in realtà è andata da sé diversamente, perché nel momento in cui poi si cominciano a conoscere le famiglie, quindi c'è un legame diverso, c'è un rapporto un po' più duraturo nel tempo, c'è una sorta di continuità, si conoscono meglio i bambini, si conoscono meglio le loro famiglie, c'è anche un approccio diverso proprio al colloquio. Diciamo che a volte in alcuni casi la sensazione di inadeguatezza, ma questa sensazione di inadeguatezza, come dicevo prima, io credo che sia fortemente legata alla tipologia di colloquio, alle circostanze, cioè io la vedo così per me. Io vorrei trovare in quel momento un momento di convivialità con le famiglie, perché stiamo condividendo quello che è una cosa preziosissima, cioè io dico sempre, i genitori ci affidano la cosa più preziosa che hanno, i loro figli, e noi maneggiamo con cura, dobbiamo maneggiare con cura questa cosa, che poi non è una cosa perché sono persone, sono bambini, e siamo seduti lì uno di fronte all'altro per parlare di questo bambino, di questa bambina, proprio come io lo vedo come una cosa veramente preziosa, cioè stiamo condividendo il tempo, il nostro percorso di vita, le nostre giornate con la stessa persona, in questo caso un bambino o una bambina. Quindi partendo da questo presupposto, quei dieci minuti a me mi mettono un senso di inadeguatezza totale, perché? Perché non posso dare spazio a una conversazione normale come si farebbe in qualsiasi contesto, cioè ciao, buongiorno, come stai? O come sta? Che si dice dalle tue parti come il tempo? Cioè quella sorta di rompere il ghiaccio non c'è, non c'è perché non ci può essere, e nel momento invece in cui c'è, i minuti passano soltanto rompendo il ghiaccio. Quindi il fatto di andare dritto al sodo e di dover dire alcune cose spogliandole da tutto quello che è il contesto, che invece magari io vorrei raccontare, mi lascia sempre questo senso di inadeguatezza. Però mi rassicura il pensiero che questa sensazione, per me anche molto spiacevole, comunque si riconduce proprio alla modalità dei colloqui. Nel corso degli anni ho riflettuto molto sul tema appunto dei colloqui, cercando anche di trovare una sorta di formula, una sorta di soluzione a questo che per me a volte diventa un problema, perché soprattutto attiro la vostra attenzione su una cosa, ci sono dei genitori, delle famiglie, che per qualsiasi motivo entrano subito in empatia con noi, ci stiamo simpatici reciprocamente, ci conoscono per sentito dire, avevamo i figli maggiori di quelli che adesso abbiamo. Cioè ci sono delle motivazioni per cui con qualcuno si entra in empatia e quindi si riesce a parlare con maggiore serenità, si riesce a parlare subito andando al sodo. Con altri c'è bisogno di costruire un percorso di fiducia che purtroppo non si può snodare in dieci minuti due volte all'anno. Servirebbe tutta un'altra impalcatura del discorso dei colloqui. Nel corso degli anni comunque ho riflettuto tanto sul tema dei colloqui, appunto perché per me sono stati sempre un momento un po' particolare. E prendendo anche nota di quelle che sono le varie tappe, i successi e gli insuccessi, questa è una cosa che io faccio spesso. Quando c'è qualcosa che non va, che non mi piace, che credo che possa essere migliorata, io mi fermo a pensare e prendo nota come sono andate le cose, cosa potrei fare per migliorare. E poi verifico se quello che faccio per migliorare funziona o meno. Facendo questo nel corso del tempo, degli anni, mi sono resa conto che ho tirato fuori una sorta di, diciamo, escamotage o comunque una sorta di piccola guida in tre punti che mi aiuta ad affrontare meglio il momento dei colloqui. Per prima cosa io chiedo ai genitori, proprio come entrè, come inizio, chiedo ai genitori come va, se hanno qualcosa da raccontarmi, proprio cos'hanno da dirmi sul bambino o sulla bambina. Questo permette a me di rompere il ghiaccio, mi mette nelle condizioni di ascoltare per non cadere in quella trappola di parlare e basta, perché anche questo non credo che sia giusto. È vero che solitamente siamo noi a dire delle cose, però è pur vero che noi per fare bene il nostro lavoro abbiamo bisogno tantissimo delle notizie, di tutto quello che ci passano le famiglie, i genitori, e quello è un momento prezioso. Quindi comincio sempre dicendo che mi dice di Marta, di Francesco, di Giuliano, non lo so, nomi a caso. Questo aiuta tanto, perché il genitore si sente già un po' più a suo agio, perché racconta qualcosa, perché magari dice il suo punto di vista. Poi comincio sicuramente esplicitando quello che è un punto di forza del bambino o della bambina, perché tutti ce n'hanno, tutti. Tutti hanno dei punti di forza e tutti hanno delle cose belle da poter dire. E su questo voglio proprio aprire e chiudere una parentesi, però voglio dirlo. Cioè, nella scuola, in classe, a parte il fatto che ogni bambino ha un suo punto di forza, ma poi si vivono delle esperienze che il genitore non riuscirà mai a vedere, perché non ha una finestra aperta sulla classe. Quindi a volte, anche semplicemente, raccontare in due minuti una cosa che è accaduta che riguarda quel bambino o quella bambina, una parola dolce che ha detto alla maestra o a un compagno, una cosa divertente, un aiuto che ha dato a qualcuno. Questo ci mette nelle condizioni di aprire proprio una finestra sulla nostra classe e rendere partecipi i genitori di quello che è un pezzetto di vita dei loro figli che loro non possono vedere perché sono al lavoro mentre noi siamo a scuola. Fatto questo, tre, esplicito, metto in tavola qual è l'aspetto da potenziare o da migliorare, cercando laddove è possibile anche di fornire una sorta di possibile soluzione. non mi piace dare per drammatica o drastica una cosa. Quando sono nelle condizioni di dover dire questo bambino ha questa nota dolente che può essere sul comportamento, che può essere sulla parte degli apprendimenti, io metto sempre però se si esercita, però se si segue questo consiglio, però se si fa questo si riesce perché comunque mi rendo conto che a volte per un genitore sentirsi dire determinate cose è veramente complesso perché loro hanno una visione del loro bambino, della loro bambina totalmente diversa, cioè loro vedono da un'altra prospettiva, loro vedono il loro figlio che si relaziona con gli altri membri della famiglia, con gli amici, ma non in un contesto classe, non di fronte a delle richieste, degli apprendimenti, eccetera, quindi comunque a volte lascia, quello che diciamo, lascia i genitori perplessi, quasi spesso, spessissimo, quasi sempre dicono no, ma non è possibile, non è il bambino che conosco io, questa è una cosa normalissima, e allora è proprio lì che bisogna intervenire dicendo non sa le tabelline, purtroppo ha preso un brutto voto alla verifica, però se si impegna, oppure però vi posso fornire il nome di un sito dove ci sono dei giochi sulle tabelline, oppure però guardi, basta veramente due minuti al giorno, tre minuti al giorno per imparare, per essere più sciolto sulla lettura, insomma tutte queste belle cose, cioè punto debole, cercare di dare la soluzione e il consiglio, non sempre funziona, però è una cosa che secondo la mia esperienza fa sentire i genitori molto più risollevati, cioè non ti sto dicendo ok, questo è il problema sbriga della tu, cioè ti sto dando anche un input da professionista anche in un certo senso, ci sono anche quelle cose che purtroppo non abbiamo una soluzione, però è pure vero che insieme si può provare, si possono fare dei tentativi. Certo, è vero che nonostante questo e nonostante queste mie tre diciamo tre soluzioni, tre, oddio, non soluzioni non è la parola adeguata, nonostante queste mie tre escamotage, a volte i colloqui non vanno bene, è inutile negarcelo, ma non solo non vanno bene, ma ci mettono nelle condizioni di essere diciamo un po' rigidi, di rigidirci e questo succede perché sempre purtroppo nel gruppo capita che c'è chi pensa al colloquio come quel momento in cui si deve sedere davanti all'insegnante e deve poter dire tutto quello che non va della scuola, che non va della classe, che non va dei genitori, dei bambini della classe, che non va negli insegnanti, che non va nei bambini, compagni di scuola e quindi in quel caso per esempio io lì mi sento spesso un po' impotente perché l'unico modo per stoppare è dire non è la serie adatta per parlarne anche se anche quello sfogo in un certo senso ci fa capire tante cose però questo irrigidisce perché irrigidirebbe chiunque e quindi già può capitare che ci si metta nelle difensive ci sono quelle persone che si siedono al colloquio pensando che quei minuti servano solo per dire che i compiti che assegniamo sono troppi che però si è confrontato con un'altra classe con gli altri genitori che quella classe lì non ha tutti i compiti che diamo noi oppure peggio mi sento al contrario che quell'altra classe lavora di più mentre la nostra lavora di meno in questo caso per esempio io non ho problemi a dirlo a volte mi irrigidisco perché mi dico sempre ma perché devi venire a farmi tutti sti paragoni come se non lo sapessi allora lì vorrei fare un colloquio al contrario vorrei dire cara mamma caro papà guarda che lo so cosa fa l'altra classe perché lavoriamo insieme perché ci confrontiamo perché programmiamo per ogni classe ha i suoi tempi ogni bambino ha i suoi tempi ogni insegnante fa le sue scelte però spesso questo non sempre si può dire anche se io consiglio in maniera molto serena però di dirlo perché spesse volte il problema più grande è il fatto che i genitori non le sanno certe cose cioè io non penso mai che ci sia cattiveria dietro a quello che dicono è che loro non sono addetti ai lavori quindi non sanno che programmiamo insieme non sanno che a volte rallentiamo volutamente non sanno che spesse volte quando si danno più o meno compiti c'è un motivo non lo sanno semplice quindi basta semplicemente trovare il modo poi per comunicarle certe cose e farlo nella maniera più serena possibile che non sempre è facile lo ammetto però bisogna trovare il modo per comunicarlo in quella sede o in un'altra sede o durante un'assemblea o durante una diciamo mail ma trovare un modo per farlo perché la comunicazione è l'arma vincente purtroppo io sono convinta che spesse volte certe cose non funzionano perché nella scuola c'è poco tempo per conoscersi per comunicare bisogna anche fare di questo un momento per riflettere e poi per migliorarsi perché secondo me c'è sempre margine di miglioramento comunque non c'è stata la soluzione cioè non c'è diciamo la formula ecco piuttosto che la soluzione non c'è la formula del colloquio ideale non mi vanno tutti bene ce ne sono alcuni che mi sfibrano sono sincera io i pomeriggi dei colloqui in presenza o online è sicuro che sono delle notti in cui non riesco a dormire per quanto sono stanca non di parlare quindi dell'eccessivo uso della voce ma perché comunque c'è una tensione non indifferente c'è la ricerca di dire sempre le parole giuste al momento giusto c'è la consapevolezza che spesse volte o per stanchezza o per irrigidimenti vari che ho detto prima non sempre si può dire la cosa giusta al momento giusto c'è la consapevolezza del fatto che si vorrebbe dire a chiare lettere qualcosa che però la buona educazione non ci permette di fare quindi dobbiamo dosare in un certo modo quello che vogliamo dire tutte queste cose fanno venire una sorta a volte di tensione che poi magari io personalmente scarico durante la notte cioè proprio mi vengono delle vere e proprie botte di adrenalina non indifferente però spero sempre di non essere eccessivamente dura con le famiglie il mio intento è quello di essere quanto più un ponte io dico sempre a me piace pensare di essere un ponte come mi piace pensare che la scuola sia un ponte tra la casa e la vita anch'io vorrei essere un ponte e cercare di essere lì per fare una sorta di congiungimento tra la famiglia e la scuola così come mi piace poter dire che anche durante il colloquio vorrei aprire una finestra sulla classe e far vedere ai genitori un altro aspetto dei loro figli la stessa cosa dovrebbe accadere anche al contrario in un mondo utopico in un pensiero utopico in un mondo migliore forse la scuola potrebbe essere organizzata con un tempo diverso per i colloqui questo aiuterebbe tanto chissà potremmo provare a suggerirlo dall'alto non lo so cosa potrebbe accadere comunque io diciamo che in questo video ho cercato di mettere a nudo quali sono tutte le mie debolezze punti fragili o quello che ho cercato di fare nel corso degli anni per migliorarmi non sono arrivata sicuramente ci sono tantissime altre cose che posso fare per migliorarmi e spero tanto che il comunicare il fatto di condividere anche con con voi e il fatto che poi a volte mi restituite con commenti con messaggi privati le vostre esperienze questo vi possa aiutare a migliorarmi comunque spero che questo video possa essere stato utile a qualcuno vi ringrazio per averlo visto fino in fondo e vi do appuntamento al prossimo video ciao ciao